e la pizza ai quattro formaggi che peraltro è tra le mie pizze preferite prima cosa che faccio mi è finita la mozzarella quella un panetto sto usando un bocconcino si dovranno mettere quattro formaggi la prima è la mozzarella vado a grattugiare all'interno grana padano e mental fatti scaglie con le mani mescolo il tutto ho messo farina e poi ho preso il panetto di pizza pizza questa sera normale con lievito naturale il link ve lo metto questa sera qui nella scheda nella pizza quattro formaggi non ci va pomodoro ne è passata né a cubetti pizza in effetti molto semplice da realizzare vado a mettere i formaggi quelli che ho preparato in precedenza e per la gioia di mia moglie un bel pezzo di gorgonzola inforniamo sforniamo ancora freddice taglio naturalmente essendoci poco mozzarella non è che finì tanto uno ciao da alessandro e alla prossima ricetta eccezionale eccezionale ovale Grazie a tutti.